Riguardano due ferati delitti, uno avvenuto nel 2000, l'altro l'anno scorso. Le misure cautelari eseguite oggi dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Le prime tre sono state notificate dal nucleo investigativo e riguardano l'omicidio di un operaio di 26 anni, Giulio Giaccio, assassinato e sciolto nell'acido nel luglio di 23 anni fa. Secondo quanto emerso dalle indagini, si trattò di un errore di persona. La vittima venne prelevata, assassinata e poi sciolta nell'acido dai sicari del clan Polverino. E non si ebbe più notizia dei resti. Le misure cautelari sono state notificate al termine di indagini coordinate dalla DDA, ai componenti il commando che agì scambiando l'operaio estraneo, alle logiche criminali del quartiere per colui che aveva approcciato la sorella di un affiliato al clan, grazie alle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia. Altri tre killer che al 26enne dissero che erano dei poliziotti sono attualmente sotto processo per questo efferato omicidio. Le altre tre misure cautelari invece riguardano l'omicidio di Pasquale Manna, assassinato circa un anno fa in un agguato nel quartiere Ponticelli di Napoli. Anche qui si tratta di tre arresti emessi su richiesta della DDA e notificate dai carabinieri di Torre Annunziata. Manna, che era in un distributore, tentò disperatamente di fuggire in auto, ma venne comunque ucciso dai sicari che entrarono in azione con il volto coperto da mascherine FFP2. era ritenuto il reggente del clan Benerusorea di Casalnuovo.